Sì, lo sapevamo che era una partita così, noi avrebbero cercato di utilizzare le loro armi, noi siamo stati abbastanza bravi con costanza a sporcare i loro tiri da tre punti, questa è la squadra che tira di più da tre punti, soprattutto dall'arrivo di Andrea Amato, hanno fatto un pochino di più la partita in unico, questo lo sapevamo, era un po' rischio da correre e stare un pochino più vicini alla palla con i due giocatori, l'abbiamo sempre controllato ma mai rotto la partita, spaccato la partita, se devo trovare un deficit lo trovo in questo, nella capacità soltanto accendendoci e spengendoci di capire il ritmo della partita e l'altro aspetto nel fare giocate semplici in momenti in cui non c'era bisogno di andare in forzature visto che abbiamo costantemente corruto, però sapevamo che la partita era questa quindi non ci siamo andati molto lontano da quella che era il Caravaggio che ci ha spettato